Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video, anzi in questo caso soprattutto ragazze, e ci tengo già a dirlo, il titolo è una parodia in qualche modo possiamo dire La soluzione per le donne ginoidi, la soluzione definitiva, questo in realtà lo faccio perché nei Q&A che faccio su Instagram e anche nelle dirette ultimamente che faccio ogni mattina, quindi seguitevi su Instagram, ogni mattina avrete una fantastica diretta tipo news mattiniere con il mio faccione che non so perché su Instagram è molto più brutto rispetto a quello che vedete qua su YouTube, in cui sono decente, non lo so Ok, il discorso riguarda le ginoidi, viene chiesto sono ginoide, come mi devo allenare visto che sono ginoide, come devo fare visto che sono ginoide qual è l'allenamento per le ginoidi, qual è l'alimentazione per le ginoidi, e c'è quest'idea che ci sia una soluzione, un qualcosa di definitivo nel caso in cui sia ginoide e quindi in questo video ho pensato, cerchiamo di buttare giù quelli che sono dei concetti di base su che cos'è la ginoide che cosa si intende con questo termine, e cerchiamo di capire tre punti, perché noi identificati tre, quindi super super easy su come allenarsi, su come far cardio e un'accortezza sull'alimentazione per le ragazze ginoidi capendo che non ci sono poi così tante differenze, vi ho anticipato il tutto allora, che cosa si intende per donne ginoidi androidi? Molto brevemente si intende la tipologia di accumulo di grasso ossia come viene accumulato grasso da un punto di vista estetico tendenzialmente le ginoidi si dice la forma a pera, quindi c'è un maggior accumulo di grasso sulla zona dei glutei, delle gambe, del lower in generale mentre le androidi tendono ad avere un grasso più equamente distribuito, ma in realtà si dice l'accumulo a mela quindi un po' più maschile, per questo si indice androidi, quindi un po' più sulla pancia e sul peri umbilicale e hanno un maggior accumulo anche di grasso viscerale, che è una cosa anche importante perché è il grasso che impatta di più e aumenta più quelli che sono i rischi per la salute di incidenti cardiovascolari, malattie neurodegenerative, eccetera, eccetera quindi questo è il concetto, differenziazione di come si accumula la massa grassa quindi tendenzialmente partiamo dal presupposto che se una persona viene e dice sono ginoide quindi identifica il problema dell'essere ginoide e come posso fare, come posso trovare una soluzione al fatto che sono ginoide come mi devo comportare, di base sta lamentando il fatto che comunque la BF è tendenzialmente elevata perché se no non vedrebbe questa grande differenza quindi io parto dall'assunto che quando si vuole trovare un problema all'essere ginoide la BF è elevata, cosa che aumenta visivamente il problema ok? Chiaro come concetto? Cos'è che crea queste differenze? In realtà tanti fattori l'accumulo di grasso localizzato il grasso localizzato in realtà è un tessuto adiposo che è un po' più ricco di recettori adenergici alfa che sono dei recettori rispetto ai beta che quando arriva la cascata di catecolamine impediscono il rilascio e l'immissione di acidi grassi nel torrente ematico quindi sostanzialmente all'esatto contrario degli acidi grassi e dei recettori beta mantengono il grasso all'interno degli adipociti quindi un tessuto adiposo particolarmente ricco di recettori beta ovviamente tende a rilasciare gli acidi grassi quando arriva la cascata di catecolamine per utilizzarli come substrato energetico quindi vengono rilasciati nel torrente ematico mentre i recettori alfa li bloccano e questo in realtà sono logicamente pochi e logicamente non vanno a bilanciare quella che è la richiesta energetica nel senso che a un certo punto questi acidi grassi vengono rilasciati non è che è un bianco o nero però stanno là da un punto di vista evoluzionistico per sopravvivenza cioè vogliamo cercare di mantenere un tessuto adiposo minimo che ci preserviamo per situazioni veramente emergenziali e da là il concetto di grasso ostinato o ultimo tessuto adiposo ad andarsene tutti noi ce l'abbiamo io tendenzialmente nel periodo umbilicale cioè finché non arrivo a poche settimane dalla gara io comunque ho un periodo umbilicale abbastanza evidente la bassa schiena abbastanza evidente e quello è il mio grasso ostinato che so essere un tessuto adiposo che è particolarmente ricco di questi recettori alfa questa è la differenza tendenzialmente c'è poi una differenza ormonale perché spesso, non sempre, ma molto spesso le donne androidi sono donne con un ovaio policistico quindi policistemia che è bilanciata da una maggior produzione di testosterone quindi difficoltà nel ciclo mestruale tendenzialmente più problematiche di insensibilità insoninica maggior grasso viscerale e una diversa localizzazione del grasso questo ovviamente non sempre però c'è questa tendenza motivo per il quale poi le androidi tendono ad avere più massa muscolare ad avere una miglior risposta in allenamento e a livello prettamente di categorie parlando di bodybuilding le androidi sono molto più per categorie hard femminili mentre le ginoidi lavorano meglio in categorie più soft come bikini o wellness ora ciò detto la tendenza a un determinato accumulo cioè il motivo per cui accumulate in un modo o nell'altro non cambia quella che è la fisiologia di base questa è una cosa molto importante quindi non c'è un qualcosa che le donne ginoidi devono fare nello specifico a cui rispondono meglio perché la fisiologia è sempre quella se vogliamo dimagrire e migliorare la nostra ricomposizione la nostra composizione corporea sempre quello dobbiamo fare quindi comunque la fisiologia è quella ci sono delle differenze di risposta ci possono essere differenze da un punto di vista di quadro ormonale di imbalance da un punto di vista di ciclo mestruale eccetera però di base la fisiologia è quella ok altro concetto le ginoidi tendono ad infiammarsi di più se la BF è più alta ora questo discorso di ginoidi e infiammazione va un po' di moda nel senso che tanti preparatori accumulano donne ginoidi si infiammano di più le donne ginoidi sono infiammate eccetera eccetera ora allora cosa molto importante è vero che se la BF è tendenzialmente elevata quindi se voi nello specifico siete ginoidi perché state vendendo questo video oppure avete delle ragazze intese come clienti eccetera delle atlete che sono ginoidi e state guardando questo video è vero che probabilmente sono più infiammate perché? perché la BF è più elevata gli adipociti sono delle cellule effettivamente attive e in particolare hanno un impatto pro-infiammatorio nella produzione di citochine pro-infiammatorie eccetera eccetera quindi tendenzialmente è vero che ci può essere un'infiammazione però parliamo sempre di un'infiammazione questa qua che è un'infiammazione subclinica cosa vuol dire che è subclinica? che realmente all'atto pratico non può essere rilevata da marker ematici o marker visibili ossia se è un grado di infiammazione per l'appunto subclinica non possiamo rilevarlo a livello clinico quindi non avremo tutta quella serie di marker che normalmente identificano uno stato infiammatorio clinico patologico ok? quindi quando si vede una donna ginoide e si dice ah ma tu sei infiammata ma si vede sei infiammata stiamo parlando di un'infiammazione acuta perché l'unica infiammazione che io posso vedere che normalmente identifica un edema quindi un accumulo di acqua extracellulare quindi ritenzione idrica banalmente è un'infiammazione acuta di una ragazza che magari sta lavorando in sala ha cambiato protocollo di allenamento si sta spremendo e quindi ha un'infiammazione acuta che cos'è l'infiammazione acuta? in questo caso è una reazione normale del nostro corpo a quello che è l'allenamento quindi infiammazione subclinica infiammazione ho fatto un video sull'infiammazione in cui ne parlo cronica ok? è una cosa e la mettiamo un attimo da parte e ci ritorneremo quella che noi visivamente l'unica che visivamente possiamo vedere è un'infiammazione acuta l'infiammazione acuta è un processo di difesa del nostro corpo che in questo caso si attiva nel momento in cui creiamo delle micro lesioni dei micro traumi che è quello che facciamo quando ci alleniamo quindi se ci alleniamo per l'ipertrofia se ci alleniamo per la composizione corporea se andiamo a stimolare il muscolo non possiamo non avere un'infiammazione acuta che va bene che dobbiamo lasciare là si esteticamente crea qualche problema però non lo crea se utilizzerete i consigli che vi danno alla fine o in generale migliorerete la vostra composizione corporea ossia sostanzialmente se la ragazza è in fisiologia se la ragazza sta bene se la ragazza non ha BF in eccesso l'infiammazione acuta visivamente non si vedrà così tanto non creerà problemi estetici però comunque su quella dovete continuare a lavorare e ve la dovete tenere infiammazione cronica l'abbiamo lasciata da una parte infiammazione subclinica ecco questo è il tipo di infiammazione che va a essere impattata da un livello di BF elevato da una sensibilità insulinica problematica quindi problemi di sensibilità insulinica da tanto stress ossidativo da una serie di fattori alimentazione sbilanciata problematica a livello gastrointestinale cui le donne sono molto più soggette rispetto a noi maschietti però di nuovo non è un qualcosa che possiamo rilevare da un punto di vista di marker o da un punto di vista estetico eccetera no assolutamente è un qualcosa che lavora in silenzio e crea un po' di casino dappertutto quindi sicuramente la dobbiamo tamponare e vediamo vedremo all'atto pratico come poterla tamponare però già vi dico che rimandiamo a quel video o un altro video se non lo trovate fatemi sapere qua sotto nei commenti un altro video sull'infiammazione per vedere esattamente tutte le strategie che possiamo utilizzare molto importante poi da capire in questo ultimo quadro e qua chiudo prima di andare a vedere i consigli in uno specifico è che le donne comunque fisiologicamente hanno una BF più alta rispetto a noi maschietti ora nelle ginoidi si vedrà di più nelle androidi un po' di meno perché hanno più grasso viscerale però comunque una BF fisiologica è più alta quindi questo è importante capirlo non potete ognuno di noi ha un set point di BF non potete pretendere di essere tirate o tra virgolette instagrammabili tutto l'anno o meglio dovete trovare un livello di BF in cui siete in equilibrio in cui siete in fisiologia quindi in cui state bene state in salute e mantenere quel livello in off-season che comunque deve essere basso perché non deve essere alto non deve creare problematiche di genere mantenerlo in off-season e poi eventualmente fare delle preparazioni dei periodi di finizione in cui andate al mare quello che vi pare in cui scendete eventualmente sotto questo livello pur sapendo che più scendete più compromettete la vostra salute il vostro equilibrio la vostra fisiologia ciclo mestruale eccetera eccetera quindi comunque io non sono un grande fan di prolungati periodi di cut possiamo farli possiamo cercare di abbassare il più possibile la BF fino a un certo punto finché il gioco vale la cantela però poi il resto del tempo dovreste stare e dovremmo stare tutti quanti nella nostra fisiologia ok? questo è un principio ora veniamo alle soluzioni come abbiamo capito da questo quadro non ci sono differenze fisiologiche non ci sono cose in particolare che si devono fare se non nel momento in cui mi guardo allo specchio cavolo sono ginoide ho un eccesso di grasso nella zona di glutei femorali cosce eccetera che cosa devo fare? non andare a cercare soluzioni microrose devo applicare quei principi base che applicano tutti quanti per dimagrire questo è ho un accumulo di grasso devo dimagrire se vedo un discorso di infiammazione credo che devo applicare delle strategie per sfiammarmi no sono grassa scusate il termine scusate non vuole essere di migratorio la BF elevata possiamo metterla così però di fatto sono grassa perché lo dico anch'io quando ci asaggio sono grasso devo dimagrire ok? that's it semplice è semplicemente questo quindi come posso farlo? come applicare e come lavorare nello specifico per le donne? ecco sulle donne abbiamo un diamone di vantaggio che le donne sopportano un livello di stress un livello di intensità in allenamento un volume di allenamento molto più alto di nuovi uomini quindi quello che si fa quando si cerca di sfiammare le ragazze e le si fa allenare poco le si fa allenare in buffer le si dice quando inizia a bruciare smetti circuitini quello che vi pare è tutto lavoro in cui non si raggiunge il cedimento non si crea lattato non si crea infiammazione è togliere quell'infiammazione acuta e farle credere che sta succedendo qualcosa di positivo no l'esempio che ho fatto su instagram è come se state rimando una barca e a un certo punto sentite un bruciore eccetera mettete i remi in barca e vedete che la barca continua ad andare un filo nonostante abbiate messo i remi e non sentite più il bruciore e dite ah che figata la barca va e io non sento più il bruciore ma in realtà avete rimesso i remi in barca se vi allenate in questo modo avete messo i remi in barca cioè non state creando un allenamento produttivo per la vostra composizione corporea quindi anche se in acuto vedrete che sarete molto più magre tra virgolette la bf sarà più bassa ma perché semplicemente vi siete sfiammate in cronico non andrete da nessuna parte realmente non andrete da nessuna parte o meglio non sfrutterete il vostro massimo potenziale allora quello che voglio fare in allenamento è creare la massima intensità possibile sui singoli set per il massimo volume recuperabile questo è l'allenamento per l'ipertrofia questi sono i principi avete un canale intero in cui parlo di questa roba veramente non so come non vi siate stufati di me che parlo delle stesse cose però un canale intero che parlo di ogni aspetto di questa cosa e se vale per gli uomini vale alla n volte per la donna perché la donna sopporta più intensità sopporta più volume quindi applicate gli stessi diamini dei principi andate in palestra e date in culo a tutti i maschietti che stanno là ok? semplicemente questo cioè fateci vedere di che pasta siete fatte perché volete e potete creare veramente il panico non a caso i nostri programmi era e venus sono programmi molto più spinti rispetto ai programmi maschili dedicati agli uomini rispetto a zeus eccetera sono programmi che hanno più volume hanno ovviamente una diversa distribuzione più glutei eccetera però hanno più volume più intensità ok? quindi questo per quanto riguarda l'allenamento il cardio normalmente ah cardio un sacco di liss un sacco di passi no 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 assolutamente no allora innanzitutto per i passi non andate a far troppi passi perché andate a compromettere quello che è il microcircolo andate a creare delle problematiche a livello delle articolazioni delle giunture state sempre sempre a camminare non dovete camminare come matte dovete camminare il giusto stare attive un 10.000 passi al giorno ma non di più il dispendio calorico che volete creare createlo con l'allenamento in particolare allenamenti HIIT interval training chiaramente che le ragazze sopportano meglio degli uomini in primis perché pesano meno quindi l'impatto generalmente è inferiore ma poi abbiamo il vantaggio di un maggior EPOC un maggior attivazione della sensibilità insulinica quindi miglioramento della sensibilità insulinica che va a diminuire quello che è lo stato infiammatorio cui potremmo essere soggette un miglioramento di quella che è un effetto di proliferazione mitocondriale quindi abbiamo una miglior salute mitocondriale bruciamo meglio i grassi quindi questo anche è un effetto positivo quindi al posto di fare i circuitini del cavolo buffer eccetera fate l'allenamento intenso e fate un cardio HIIT interval training tabata ci sono diverse tipologie cdd che ero di video sto postando molte di queste cose su instagram e sul mio log su rinonation che adesso sarà rinonation.co.uk quindi .co.uk perché la piattaforma è inglese quindi abbiamo cambiato anche questo quindi sostanzialmente potete sfruttare tutte queste cose e potete realmente massimizzare in questo caso i vostri risultati quindi più che cardio l'IS e 10.000 miliardi di passi 2-3 sessioni di HIIT a settimana bilanciate per impattare bene sul recupero quindi non impattare troppo su quello che è il vostro recupero sistemico non sovraffaticarvi sono super super benefiche e avranno un miglioramento un impatto positivo a livello cardiovascolare a livello di microcircolo diminuzione dell'infiammazione e al tempo stesso miglioramento del microcircolo quindi capacità anche di recuperare meglio di star meglio eccetera 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 ora ultimo punto all'alimentazione realmente qua l'unica grande cavolata che vedo fare dieta sana dieta bilanciata dieta varia stessi principi non c'è niente di particolare da fare l'unica cavolata che vedo fare è scendere con i grassi e alzare con i carbon no non perché i grassi nella donna debbono essere alti per chissà quale ragione a livello ormonale i grassi che servono per avere un buon quadro ormonale una buona produzione steroidea ormonale sono realmente molto pochi io non è che se ne aggiungo tantissimi creo chissà quell'effetto però però se io aggiungo più grassi c'ho un vantaggio un vantaggio molto molto importante che posso sfruttare l'occasione per aggiungere grassi buoni che hanno un impatto antinfiammatorio ossia grassi in particolare ricchi di omega 3 per cui pesce grasso per cui le noci per cui integrazione di omega 3 in generale carne grass fed formaggio grass fed sono tutte ottime fonti che hanno un alto contenuto di omega 3 soprattutto il pesce grasso che quindi vanno a impattare positivamente sul mio quadro infiammatorio hanno un potere antinfiammatorio quindi distanziarlo dal mio allenamento perché non voglio mettere troppe molecole antinfiammatorie antissidanti a ridosso del mio allenamento distanziarlo e questo avrà un impatto positivo sull'infiammazione subclinica che è quella che mi interessa però non lo metto vicino all'allenamento perché l'infiammazione acuta deve fare il suo corso l'incendio ci deve essere il corpo deve spegnerlo da solo mettiamola così ma l'infiammazione subclinica devo tenerla abata proprio perché avendo una BF tendenzialmente elevata avrò una produzione pro-infiammatoria tendenzialmente elevata e questo si ripercuote un po' come tutto un sistema tutto torna miglioramento della sensibilità insulinica che ulteriormente viene migliorata con l'allenamento HIIT con l'allenamento che vado a fare che ulteriormente va a migliorare l'infiammazione che riduce lo stress ossidativo che permette di bruciare generalmente stare più in fisiologia e quindi avrò questo mio risultato di ricomposizione corporea come vedete sono le cose che dico in tutti i video non c'è veramente niente di diverso che bisogna fare bisogna semplicemente farsi il culo che è la cosa più scomoda da fare che è la verità più brutta che vorremmo sentire però non c'è bacchetta magica se non la nostra volontà e questa è l'unica grande verità ragazzi qualsiasi domanda qua sotto sarò ben liato di rispondere come sempre io detto questo chiudo e vi rimando al prossimo video